La scelta di Murigno nel giocare quest'ultima amichevoli con la difesa 3 ha chiaramente fatto tornare in auge le voci di un possibile arrivo nel reparto difensivo. Ho sempre detto e ripetuto che in un'eventuale difesa 4 eravamo sostanzialmente a posto, perlomeno a livello numerico. Ma giocando con la difesa 3 non puoi avere un solo leader, chiaramente Smalling, e tre giocatori di discreto livello che comunque non possono bastare sia dal punto di vista tecnico ma anche numerico. Non a caso infatti negli ultimi giorni è tornato di moda senesi, ma magari ne parleremo domani se ci saranno novità a riguardo. E adesso è uscito un nuovo nome per il reparto difensivo che vi giuro non avevo mai sentito nominare. Sto parlando di Nathan De Sousa, con tanti altri nomi che non vi sto più a dire, un difensore classe 2001 del Red Bull Bragantino. Allora, qua posso dire veramente poco. Sarà difficile arrivare al minutaggio di 8 minuti per poterci monetizzare qualcosa, ma farò il possibile, ecco, già ve lo dico. È chiaro che si parla di un giocatore di prospettiva, un giocatore che sta muovendo i suoi primi passi nel maggiore campionato brasiliano. Ha giocato comunque nel Flamengo per diverso tempo e lì è nato come tersino destro per poi cambiare ruolo e diventare difensore centrale. Uno dei giocatori considerati più promettenti di tutto il campionato brasiliano, appunto. Detto questo, è veramente difficile parlare di questo tipo di giocatori perché tante volte in passato li abbiamo analizzati. Tante volte ci sono stati giocatori in rampa di lancio di campionati inferiori, non in termine brutto, però è la verità dal punto di vista tecnico. E tante volte è successo che venendo in campionati più importanti hanno sentito il peso comunque delle aspettative e non sono riusciti più a ripetersi. Un ultimo esempio in casa Roma mi viene in mente Reynolds, che al tempo era considerato l'astronascente del campionato statunitense, è venuto qua e non sa neanche toccare la palla, cioè non sa neanche giocare a pallone. E sinceramente io non vorrei un giocatore di questo tipo a prescindere, soprattutto, lo dico e lo confermo, dopo aver visto l'ultima partita con lo Sporting e in generale la nostra situazione nel reparto difensivo. Per quanto riguarda centrocampo e attacco ci stiamo muovendo benissimo secondo me, anche se dobbiamo ancora fare delle cessioni importanti che dovrebbero eventualmente permetterci di completare la squadra dal punto di vista economico, sia di stipendio che di budget. Ma comunque a livello di entrate e a livello di conferme siamo messi abbastanza bene, comunque a centrocampo è vero ci manca un giocatore ma abbiamo comunque una discreta qualità, non ai livelli più importanti del campionato ma comunque di buon livello. Davanti comunque abbiamo una possibilità importante con tanti giocatori forti di livello che se riescono a trovare la giusta amalgama potrebbero effettivamente giocare un ruolo importante nella lotta per tornare in Champions League. Dietro però ci sono ancora tanti problemi. Credo che la Roma debba cercare in questo momento l'equilibrio nella maniera migliore. L'equilibrio nel calcio è fondamentale, lo ripeteva anche il buon Spalletti spaccando tutto, adesso non lo faccio perché questo rischia un pochino di sfondarsi, è un pochino vecchiotto questo scrittorio. Però l'equilibrio serve sempre. E se è vero che tu la cintola in su sei messo abbastanza bene, dietro non si può dire la stessa cosa, soprattutto se giocherai con la difesa 3. Se tu giochi con la difesa 4 hai comunque un contributo difensivo maggiore dei terzini, che sono più arretrati quindi possono dare una mano. Ma con la difesa 3, visto che i terzini comunque sono più avanti e devono fare un lavoro di attacco-difesa costante, è chiaro che il reparto difensivo svolge un ruolo fondamentale. Continua a pensare che il centrocampo sia il ruolo più importante di tutti. Ma se tu riesci con centrocampo e attacco a fare 6 gol, per dire un numero a caso, non devi neanche pensare di doverne prendere 4-5 a livello difensivo. Perché poi magari capita una giornata che gli attaccanti non sono in vena e i gol comunque li prendi perché tecnicamente la difesa non è eccellente e non vinci le partite. Per questo motivo io non ce l'ho con Nathan De Souza, che potrebbe tranquillamente diventare nei prossimi anni un giocatore importante, potrebbe magari fare un salto in Europa e diventare un giocatore di livello, come poteva essere, che ne so, Marquinhos, che abbiamo preso da giovani promesse e poi è diventato uno dei difensori più forti del mondo. Ma nella situazione attuale, guardando i giocatori che abbiamo in questo momento, abbiamo bisogno di certezze. Anche una. Anche una sola certezza oltre Smalling. Per questo motivo pensare di prendere un giovane promettente in difesa non credo sia vantaggioso. Anche perché volendo hai anche Tripi, per dire, se tanto dobbiamo avere un giovane in rampa di lancio, tengo lui come quinto, sesto di difesa e sono a posto per modo di dire. Ma attualmente credo che la Roma abbia necessità assoluta di prendere un qualcuno che ti dia sicurezza. I Senesi, per un discorso economico, ma anche tecnico, sarebbe tanta roba. Ho visto qualcuno che lo ha denigrato perché ha giocato una finale un po' sotto tono, non ha giocato una partita eccezionale, ma se giudichiamo un giocatore da una partita, siamo veramente alla frutta. Cioè, allora, molti dei giocatori che hanno giocato la finale non dovrebbero essere neanche considerati dei buoni giocatori, perché non tutti hanno fatto una bella prestazione, mettiamoci questo in chiaro. Quindi è assurdo giudicarlo solo per quello. Io ho visto diverse partite, comunque ho visto diversi highlights delle sue qualità, e mi sembra il giocatore ideale da affiancare a Smalling nella difesa a tre. Se vogliamo considerare per forza Mancini un intoccabile, visto il contratto Monstro che gli è stato rinnovato, Monstro considerando le sue qualità sul campo, che non sono secondo me al livello dello stipendio che prende, ma magari vuoi premiare la sua leadership, quindi diamogli questa possibilità, lasciare Smalling da solo con a fianco uno tra i bagnetti con Bulla sarebbe un po' dannoso, comunque rischioso. Non me ne voglio i bagnetti più di con Bulla, ma non lo considero per niente una sicurezza costante nell'arco dei 90 minuti. È un giocatore che ti alterna delle belle chiusure difensive, sia a livello di scivolate, magari, ma anche di velocità, ha delle cappellate mostruose, cioè, ad esempio, c'è stata un'azione con lo Sporting in cui l'attaccante ha corso, non è proprio stato dietro e per poco non prendevamo gol per un cross pericoloso messo in mezzo. Non è una sicurezza che posso considerare titolare. Finché tu me lo consideri un'alternativa, visto che non mi pare che i difensori panchinali delle big italiane siano così tanto più forti, allora ci sta. Io un Ibagnez e un Cumbulla o un Mancini in rosa me li tengo, ma serve un'altra certezza. Capisco che adesso la Roma ha il mercato un pochino bloccato a meno che non trovi delle opportunità, come ad esempio Wijnaldum che potrebbe arrivare in prestito secco, con diritto, con ingaggio, metà pagato di questa. È un'occasione, non è che tu lo puoi prendere a titolo definitivo, visto anche lo stipendio che prende in questo momento. Ma per quanto riguarda la difesa, per quanto riguarda gli altri investimenti, devi cedere, e questo è ovvio, ma devi anche andare sulle sicurezze. Nathan De Sousa attualmente sarebbe un rischio troppo elevato, perché non è che dico che sicuramente farà male, ma nella situazione attuale non puoi permetterti di bruciarlo così velocemente. Di giovani che hanno buone qualità, già ce li hai, il rosa. Magari puoi farlo più avanti, quando magari hai una difesa forte di livello, ti serve qualcuno dietro che possa crescere anche con la loro guida, e ci sta. Ma finché sei in crescita, finché devi trovare tu stesso dei capi saldi da mettere nel reparto difensivo, pensare che possano diventarlo subito dei giovani di 20 anni, di 20-21 anni, sarebbe troppo rischioso. Potrebbe succedere, per l'avoro di Dio, ma preferirei andare su qualcuno più pronto. Quindi mi auguro che di qui in avanti si riescano a chiudere le cessioni che ci stanno bloccando il mercato in entrata, Carles Perez, Klaibert, Diavara soprattutto, non ci sta nessuno che se vuole prendere, capisco che non è fortissimo, ma ma 25 anni, una Samp, cavolo, una qualsiasi altra squadra potrebbe prendere, niente. Quando tu avrai chiuso queste uscite e guadagnato qualche milione, sicuramente sarà più plausibile prendere un difensore più pronto. Queste scommesse, se proprio vuoi farlo per tenerlo come sesto, va bene, ok, mandi trip in prestito, tieni Nathan De Sousa come sesto difensore, lo fai crescere e ci sta. Ma come titolare o comunque come alternativa a quelli che adesso sono i titolari, serve qualcuno di meglio. Mi dispiace, non è che ce l'ho con lui, ci mancherebbe altro, ma spero che abbiate capito il mio discorso. Comunque, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su tutti gli altri miei profili social, se volete vi lascio il link qua sotto in descrizione e ci vediamo in un prossimo video. Per adesso diciamo che sarò sempre fisso con due video alle 2.05 e alle 7.05. Chiaramente poi se ci sono novità amichevoli o partite o cose di questo tipo che magari succedono nell'immediato potrei anche farne tre, però non vi ci abituate, perlomeno non in questo momento storico. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi!